Buonasera, bentrovati, vediamo insieme il sommario di questa edizione. Brutale rapina a Bellaria e Giamarina, imprenditore ex consigliere aggredito e picchiato da due uomini che lo hanno tirato fuori dalla macchina mentre era fermo alla sbarra del parcheggio. Avevano studiato i suoi movimenti. Bimbo di sei anni si sente male nella piscina in spiaggia per una congestione. Portato con l'elicottero al Bufalini di Cesena, la sorellina che era con lui ha avuto anche lei un malore ma per la paura entrambi stanno bene. Avanti con il nuovo stadio Romeo Neri, esito positivo dalla conferenza dei servizi a settembre, il passaggio in giunta comunale. Cantiere del metromare in ritardo preoccupano i tempi previsti dal PNRR che finanzia l'opera con 60 milioni. Oggi l'incontro tra i vertici di PMR e italiana costruzioni sulla nuova tratta dalla stazione a Rimini Fiera. Lo avete sentito, la nostra apertura è questa rapina violenta avvenuta a Igea Marina. Un ex consigliere imprenditore è stato pestato in un parcheggio. I malviventi sono fuggiti con lo zaino. Indagini dei carabinieri in corso. Sentiamo. È stato trascinato a forza fuori dall'abitacolo, gettato a terra e preso a calci da due uomini. Vittima della violenta rapina avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorso nel parcheggio di Evidei 1000 a Igea Marina, l'ex consigliere del comune di Bellari-Giamarina Alessandro Zavatta, 45 anni, attualmente titolare della Luxor Print e socio del Becky Bay. Zavatta era uscito proprio dal locale sulla spiaggia e intorno all'una e mezza aveva raggiunto il parcheggio per fare ritorno a casa. Era a bordo della sua auto quando all'improvviso un uomo col volto coperto ha aperto lo sportello lato passeggero e ha cercato di rubargli lo zaino. L'ex consigliere si è opposto e ha cercato di riprenderselo. A quel punto è arrivato un secondo uomo che faceva da palo. I due rapinatori hanno scaraventato Zavatta fuori dall'abitacolo e l'hanno colpito con ferocia, come si nota dal filmato delle telecamere del parcheggio postato sui social dal 45enne. Poi i due sono fuggiti col bottino, fatto di contanti, un computer e documenti. Ad attenderli c'era un complice in auto. La vettura dei malviventi, forse una station wagon, avrebbe percorso via Nino Bixio fino all'incrocio con via Castellabate. Chiunque abbia qualche elemento utile per risalire ai rapinatori si rivolga ai carabinieri e l'appello lanciato dal 45enne, che dopo l'aggressione ha riportato solo contusioni ed escoriazioni multiple. Le uniche parole che hanno pronunciato sono state molla e lascia. Non credo fossero stranieri, ha aggiunto Zavatta, che ritiene di essere stato seguito. Conoscevano i miei movimenti, altrimenti non mi avrebbero atteso lì. Le indagini dei carabinieri proseguono. Due bimbi di 6 e 7 anni, fratello e sorella di una famiglia di turisti stranieri, stavano giocando nella piscina dello stabilimento balneare 110 di Riccione. All'improvviso il maschietto si è sentito male. Tempestivo l'intervento del bagnino di salvataggio, che ha soccorso il bambino, liberandogli le vie respiratorie, riuscendo a farlo vomitare, permettendogli così di riprendersi. È stato portato all'ospedale Buffalini di Cesena con l'elicottero per gli accertamenti e sul posto è intervenuta anche la capitaneria di Riccione. Il malore potrebbe essere stato causato da una congestione dovuta al troppo cibo assunto a pranzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 e anche la sorellina, che era con lui, si è sentita male, ma non per il troppo cibo, ma per aver visto il fratellino in difficoltà, che poi è stato soccorso e rianimato. Anche la sorella è stata portata in pronto soccorso a Riccione. Entrambi i bimbi dovrebbero essere fuori pericolo. Invece un malore è stato fatale questa mattina all'altezza del bagno 35 di Bellaria Giamarina, intorno alle 10, per un turista settantenne della provincia di Bitonto, in vacanza con la moglie e un gruppo organizzato. Nuotava a circa 30-40 metri dalla riva quando si è sentito male e i tentativi di rianimarlo prima dell'arrivo dei sanitari del 118, purtroppo, sono stati per lui inutili. Andiamo ancora avanti e voltiamo decisamente pagina per parlare di una decisione molto attesa, di un passo importante che è stato compiuto per il nuovo stadio di Rimini, lo stadio Romeo Neri. La conferenza dei servizi ha dato esito positivo al progetto, sul quale la Giunta Comunale adotterà la dichiarazione di pubblico interesse nei prossimi giorni. Vediamo. È stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Rimini la determinazione conclusiva della conferenza di servizi preliminare sul documento di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo stadio di calcio della città di Rimini, mediante ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell'impianto Romeo Neri. Dopo aver acquisito i pareri di tutti gli enti e gli organismi preposti, la conferenza di servizi preliminare ha espresso valutazione positiva con prescrizioni da assolvere nella successiva fase 2 del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sulla base di questo esito, nei prossimi giorni, la Giunta Comunale adotterà la dichiarazione di pubblico interesse sul progetto che consentirà a settembre l'approvazione in Consiglio Comunale per l'inserimento dello stesso negli atti di pianificazione comunale. Soddisfazione da parte del sindaco di Rimini Sadegolvad che precisa però quanto sia importante restare con i piedi per terra in attesa che tutto l'iter venga completato. Il progetto prevede che l'attuale struttura lasci il posto a uno stadio all'inglese completamente coperto e con le tribune a ridosso del campo. La capienza prevista del nuovo Romeo Neri è di 15.000 posti con una variegata selezione di attività commerciali al suo interno. Si è svolto questa mattina l'incontro tra i vertici di PMR Italiana Costruzioni per fare il punto sul progetto per la nuova tratta del metromare che unirà la stazione di Rimini alla Fiera. I ritardi sono oggettivi e c'è preoccupazione sull'avvio del cantiere visti i tempi ferrei previsti dal PNRR che finanzia quest'opera con 60 milioni di euro. Sentiamo. Quando si parla di TRC o metromare la storia insegna che gli intoppi sono sempre dietro l'angolo. In queste settimane sarebbe dovuto partire il cantiere per la seconda tratta dell'opera quella che dalla stazione di Rimini arriverà alla Fiera. Al momento però è tutto fermo perché la ditta che si è giudicato i lavori, italiana Costruzioni, non ha depositato il progetto esecutivo per l'intera tratta. Il problema sarebbe l'aumento dei costi stimato dall'azienda edile intorno al 30%. Difficile pronunciarsi sulla congruità della cifra senza poter esaminare il progetto, ha spiegato Stefano Giannini, amministratore unico di PMR che è la stazione appaltante per il metromare. La nuova tratta, finanziata con 60 milioni di euro dal PNRR, deve però essere completata entro il giugno del 2026 proprio per non mettere a rischio il finanziamento europeo. Giannini in mattinata ha avuto una videoconferenza con i Vertici, l'italiana Costruzioni e i suoi ingegneri per capire come risolvere la situazione di stallo. Si è trattato più che altro di una riunione tecnica in cui la ditta ci ha illustrato il progetto esecutivo che dovrebbe essere trasmesso formalmente in queste ore, spiega Giannini. C'è però un dato oggettivo, siamo in ritardo e questo è stato ammesso anche dall'azienda appaltatrice. Giannini non nasconde la preoccupazione. In Italia, aggiunge, siamo abituati a possibili ritardi perché le pratiche sono molto complesse, ma con i fondi PNRR non ce lo possiamo permettere. Cerchiamo di tenerli sotto pressione. Ci hanno assicurato che anche se i lavori non sono ancora iniziati, il tempo a disposizione è sufficiente per chiudere il cantiere entro la deadline prevista dall'Europa. Faremo a stretto giro altri incontri, conclude la speranza, e di partire nella zona della fiera il prima possibile, comunque nella finestra temporale prima di Ecomondo, in cui l'aria è sgombra. Settembre è dietro l'angolo. A questo punto bisognerà capire che cosa accadrà nelle prossime settimane. E andiamo al mare perché oggi scatta il fermo pesca nell'Alto Adriatico tra Trieste e Ancona, da oggi appunto fino al 13 settembre, per consentire il ripopolamento dei mari. In regione le barche coinvolte dal fermo pesca sono meno di 200. Uno stop alla pesca strascico, quella che riguarda le specie più pregiate, mentre sui banchi della pescheria del mercato coperto di Rimini si potrà continuare a trovare il pesce fresco nostrano, pescato dalle piccole barche con reti da imbrocco e il pesce proveniente dal basso Adriatico. Inoltre tutte le qualità di mitili, sono cozze, vongole e veraci, non sono soggette al fermo pesca. Si potrà continuare ad acquistare il pesce proveniente da altri mari italiani, il pesce allevato, il congelato e decongelato. Torna il 2 agosto a San Leo, il convivio d'Appennino per festeggiare il compleanno della prima cooperativa di comunità della provincia di Rimini, Fermenti Leontine. Abbiamo fatto una chiacchierata con il suo presidente Marco Angeloni. 1 agosto 2019, 1 agosto 2024. La prima cooperativa di comunità nata in provincia di Rimini compie 5 anni. Fermenti Leontine, questo è il suo nome, è riuscita nel 2021 a riaprire il forno di San Leo e nell'aprile 2023 ha dato vita alla bottega, sempre a San Leo, che oltre a vendere prodotti del territorio è diventato un vero e proprio spazio di comunità. Venerdì, all'interno della seconda edizione del convivio d'Appennino, la cooperativa festeggerà con una serie di iniziative aperte a tutti a partire dalle 16.30 all'interno del paese. Un'occasione per guardare al futuro, partendo da quanto di concreto fatto finora. C'erano alcuni luoghi come quello del forno di San Leo che aveva chiuso, temporaneamente era chiuso, e quindi c'era bisogno di attivarsi come comunità per riaprire questo luogo, ma nello stesso momento c'era bisogno di fare altro, di riattivarsi anche come persone, come cittadini, con un luogo che non fosse solamente un abitato, come quello del forno, insomma un'attività, ma fosse anche un luogo di relazioni, perché il forno, come tante altre attività a San Leo, può essere un ristorante, piuttosto che il circolo A, piuttosto che la Proloco, cioè sono tutti luoghi che se scompaiono, non scompare solamente una casa, un edificio, ma scompaiono delle relazioni. Questo percorso partecipativo è sforzato poi nella costituzione della cooperativa. Il mio sogno per i prossimi 3-5 anni è quello di appunto questo fermento, noi ci chiamiamo fermenti, un po' dal pane che fermenta, ma anche dal fatto che vogliamo essere lievito per la comunità e il territorio, io mi immagino nei prossimi anni che possano nascere progetti e spero che ci siano tanti giovani che vogliono entrare in questa sfida e la vogliano sentire loro a partire dalle famiglie del territorio, un progetto continua e a futuro, se ci sono davvero le persone che lo scelgono, ma sono in grado anche di non tenersi come loro questo progetto, ma di condividerlo, di aprirlo ad altri e farlo appunto fermentare. Educaid, associazione riminese che porta avanti i progetti di educazione e inclusione sociale in Palestina, ha organizzato una serata per raccogliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza sulla grave situazione in cui versa la popolazione di Gaza. Vediamo. Oltre 190 persone hanno partecipato lo scorso lunedì a Voci per Gaza, la serata solidale di letture, musica e cena palestinese promossa da Educaid per riportare l'attenzione e sensibilizzare la cittadinanza sulla catastrofe umanitaria in corso in Palestina. Un modo per dimostrare concretamente la vicinanza al dramma palestinese grazie anche alla raccolta fondi per finanziare attività di emergenza a supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione civile, in particolare minori e persone con disabilità e alle relative famiglie che non hanno più accesso ad alcun tipo di sostegno o servizio. Le somme raccolte saranno infatti utilizzate per la distribuzione di ausili, kit igienici e cibo soprattutto fresco per cercare di arginare il problema ormai dilagante della malnutrizione e della carenza di vitamine, una situazione gravissima come ha sottolineato pochi giorni fa anche l'ONU su cui ora si affaccia l'incubo delle malattie infettive che si diffondono per le condizioni critiche in cui vivono gli sfollati. Durante la serata si sono alternati interventi, momenti di riflessione e confronti tra cui il collegamento da Betlemme con Giovanni Sappucci in missione per Educade e la testimonianza del responsabile programmi per la striscia di Gaza di Josef Amduna ma anche videotestimonianze musica e una cena molto apprezzata preparata dalle cuoche del Chase. Quello passato è stato il primo di una serie di appuntamenti che torneranno il prossimo autunno con incontri concerti mostre e tanto altro per tenere viva l'attenzione su un dramma che ogni giorno rischia di diventare più invisibile. E per noi è tutto grazie dell'attenzione e buona serata. Grazie a tutti.